Nell'incontro di Bozzolo una forte occasione di incontro e di confronto con i comuni del Cremonese e del Mantovano. La sintesi di questa importante giornata di lavori è del segretario generale di Anci Lombardia, Rinaldo Redaelli. Sì, intanto siamo molto soddisfatti dell'incontro perché abbiamo raggiunto l'obiettivo di portare l'Anci Lombardia sui territori e quindi di confrontarci con i sindaci del Cremonese e del Mantovano che numerosi hanno ascoltato le relazioni dei nostri coordinatori, dei nostri esperti e che hanno potuto rispondere alle loro domande. È sicuramente un momento importante per la nostra associazione perché in questo modo dimostriamo la nostra vicinanza a tutte quelle amministrazioni che spesso e volentieri si sentono un po' alla periferia dell'impero ma che in realtà invece sono il cuore della nostra associazione. Infatti i piccoli comuni sono numerosissimi in Lombardia, oltre 1000 comuni sono meno di 5000 abitanti su 1500 e quindi la nostra attenzione verso questa dimensione dei nostri associati è importantissima e rilevante.